I tifosi, gli original fans in particolare, sono sempre mobilitati quando si parla di Scandone lunedì l'assemblea pubblica per sollecitare istituzioni di imprenditori perché la situazione è difficile nonostante l'impegno degli ultimi giorni che ha prodotto il pagamento degli stipendi elettrati. Sì, noi abbiamo intenzione, più che intenzione, abbiamo organizzato questa manifestazione lunedì dove invitiamo tutti gli appassionati del basket ma anche i non appassionati, quelli che amano i colori bianco-verdi, in quanto ci sarà la presenza istituzionale delle tre cariche più importanti, a partire dalla regione fino ad arrivare al sindaco. Abbiamo invitato gli imprenditori, abbiamo invitato vecchi dirigenti, Ciro Melillo, l'avvocato Benigni e ovviamente anche quelli attuali. In più abbiamo sollecitato e ottenuto anche la presenza di giocatori che bene o male hanno fatto e hanno costruito la storia del basket avelinese come Sergio Mastroianni, Giovanni Dallalibera, Pippo Frascolla, Herb Jones, questo giusto per far capire l'importanza di quello che è la Serie A e quindi la scandone ad Avellino. Il momento dei fatti, perché al di là delle parole bisogna muoversi per evitare il peggio. Sicuramente, sappiamo che per il 16 febbraio ci sono queste scadenze e quindi vogliamo anche capire un po' la situazione in questo momento come è stata programmata. Poi abbiamo invitato tutta Avellino perché chiunque potrà intervenire alla serata per dare consigli, ascoltare un po' anche quello che dicono le istituzioni perché non può essere solo nelle nostre mani il futuro della scandone, parlo a livello di gruppo Original Fans. Noi ci facciamo da tramite, però sappiamo che questo è un bene di tutta la città e quindi chiediamo l'aiuto di tutta Avellino.